Di nuovo insieme a tanta salute il programma della bellezza e del benessere e adesso l'angolo dell'artista. Parliamo di Best Train 2008, lo facciamo col manager artistico e produttore Piero Giarrizzo di I Can Fly, SRL Communication, benvenuto. Un artista perché dietro le quinte comunque fai esibire gli artisti, come si diventa produttore? È un percorso alquanto difficile, non è poi così semplice fare spettacoli, organizzare eventi di un certo tipo, di un certo livello come fortunatamente oggi siamo arrivati a realizzare. Che cos'è Best Train? Best Train prende proprio spunto dal suo nome perché l'idea nasce proprio su un treno, su un treno Firenze-Milano, ricordo che ancora nelle mie orecchie risuonava la voce fuoricampi più famosa al mondo, al mondo no ma a livello italiano sicuramente, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ah sì, quella che dice l'annunciatore, quindi un treno che si fermerà dove? Si fermerà a Livorno il prossimo 13 di giugno 2008 al Palagida di Livorno, esattamente il palasport di questa città, anche meta di tanti milanesi per il weekend di mare, quindi sarà un bel momento, una bella occasione per vivere uno spettacolo. Quante persone ci saranno? Spero tantissime, le previsioni sono abbontanti, si parla di una location che ospita circa 6.000 persone, quindi un progetto ambizioso. Eh però, 6.000 persone sì, poi ovviamente chi lo presenterà questo? Ma la conduttrice più brava e bella che ci possa essere in qualsiasi palinzesto televisivo, Matilde Calamai. Insieme a Mice Squalo. Mice Squalo, esatto. Quindi poi facciamo dei nomi, chi ci sarà a questo? Allora, questo è un evento che ospiterà grandissimi artisti, la special guest della serata sarà Gianluca Grignani, a cui sarà consegnata addirittura la prima edizione del premio I Can Fly, in collaborazione con Radio Cuore, che è la radio ufficiale di Best Train, e anche grazie alle collaborazioni di grandi nomi di aziende di livello nazionale, quali Dear Fly, che è un abbigliamento moda rigorosamente made in Italy. Cos'è che mi hanno fatto un vestito che quanto vale un sacco? Addirittura 10.000 euro. Quindi rubatemi, ho già capito che mi ruberanno. Tutta tempestata di Swarovski sarà in una stella quella sera. E quindi Gianluca Grignani, poi Max De Angelis. Max De Angelis, che è avuto anche ospite in trasmissione, se non sbaglio, qualche settimana fa. Per non parlare di Paolo Ruffini, o Andrea Gresti dalle Iene, il Cavagliar Bettazzi, che è il vincitore dell'edizione del più bugiardo d'Italia, Ilenia da Radio 105. Le sorprese saranno tantissime, anche grazie all'ausilio di effetti speciali e un service tecnico di altissimo livello. E quindi se uno vuole venire all'evento, che cosa deve fare? Tutte le informazioni potete trovarle sul sito www.icanflysrl.com. Le prevendite sono disponibili su boxhall.it. Box? Boxhall.it. Ah, ok, quindi le prevendite tramite internet. Esatto, tramite internet o nei vari punti di prevendita che Boxhall ha in tutta Italia. Ma che cos'ha in mano? In mano ho un bel regalo a tutti i telespettatori di Tanta Salute. Proprio tutti no, ma certo. Cioè, questi sono i biglietti invito, quindi che cosa deve mancare? Esatto, sono 5 inviti che metto a disposizione molto volentieri, dei telespettatori di Tanta Salute, che saranno così gentili da inviarmi un'email all'indirizzo info-i-canflysrl.com, riceveranno l'invito ad assistere a questo splendido spettacolo. Quindi proprio un invito ufficiale dal produttore. Esatto. Bene, parliamo un po' ancora di questo evento, prossime tappe, progetti futuri? Sì, tenevo a dire che sono qui da solo, però ci sono tantissime persone che lavorano duramente e mi aiutano nella realizzazione di questo progetto che, come abbiamo già detto in precedenza, è molto ambizioso. Quindi vorrei, se è possibile, anche ringraziare Lovin, che si occupa della direzione artistica di questo evento. Dunque il personal manager di Gatto Panceri. Il grande Gatto Panceri, che sarà uno dei protagonisti della serata. E ancora voglio ringraziare Tiziana Garzillo, che si occupa dell'assistenza alla produzione. E ancora la New Planet Communication Service, che si occuperà della sicurezza. E tutte le persone che veramente mi stanno vicino nella realizzazione. Ma come hai iniziato? Come ho iniziato? Sì, come hai iniziato la tua carriera? Certamente, come tutti i ragazzi, nell'età di 23-24 anni, affiscinato dalla telecamera, ho iniziato l'ambizione di voler lavorare in questo ambiente. Bene, non vogliamo sapere dove. Assolutamente, no. No, sorvoliamo. Va bene, io ti ringrazio. Ringrazio Piero Giarrizzo.